Buonasera a tutti, continuiamo con il tema dell'intelligenza artificiale autogenerativa, sono con me al tavolo e intanto li presento, già lo conoscete, l'avete visto fino ad adesso intervenuto Stefano Epifani che ci sta dando una mano anche come partner di questo evento, nella prossima settimana, non so se già ne avete parlato, però ci sarà l'evento Gli Stati Generali della Sostenibilità Digitale dove parteciperemo anche noi come Istat, sarò lì con te e quindi questo mi fa molto piacere, poi abbiamo Andrea Cortelli che è Country Manager di USU Italia, poi abbiamo Nicola Mangia che è qui al mio lato, che è responsabile della pubblica amministrazione per DXC, abbiamo poi Paolo Brandolini che è responsabile ingegneria di sistemi di Fastweb e collegato da remoto, gli diamo il benvenuto anche a lui, al professor De Nicolai che insegna una materia meravigliosa, io quando l'ho visto Innovation Management vorrei farlo anch'io, posso venire a seguire i tuoi corsi meravigliosi, approvato, allora continuiamo un po' col firuge relativo appunto a quelle che sono le opportunità, i rischi e le prospettive, prima l'avete un po' introdotti nel talk precedente e adesso andiamo un po' sul pratico, vediamo un po' sul pratico quali sono appunto questi elementi che dobbiamo considerare, no? Nell'ambito... Sì, quello che stiamo facendo in questo percorso che è partito appunto dai BIAS, quindi era uno dei problemi principali dell'intelligenza artificiale ed è passato poi a ragionare della natura delle intelligenze artificiali generative e quindi sostanzialmente di cosa stiamo parlando, questo è il momento di cominciare a riflettere su cosa effettivamente si può fare, perché il rischio è quello di far passare appunto come emergeva un po' nella parte finale del panel, come riflessione condivisa, di far passare l'idea che alla fine siano più i rischi che le opportunità, così non è, ma per cogliere le opportunità dobbiamo conoscerle e soprattutto dobbiamo cominciare ad avere contezza di quelle che sono le cose che domani, che dopo domani potremo fare in pratica nelle aziende, nelle istituzioni, nelle scuole, nelle università. Ecco, quello che faremo con questo panel è capire come i processi generativi che ci consentono di sviluppare modelli di innovazione si articolano e si rendono concreti in una società che dovrà fare i conti con un'intelligenza artificiale che seppur non intelligente, come dicevamo prima, senz'altro è aumentata e aumenta la nostra e quindi visto che insomma ragioniamo, abbiamo a che fare con tematiche collegate a l'innovazione, come l'innovazione cambia i processi, questo è il panel nel quale cercheremo di comprendere le opportunità per poi tornare al successivo sulle preoccupazioni che dobbiamo avere. Ok, senti invece Stefano, sempre con te, dal punto di vista etico, fammi un po' qualche elemento perché io insomma già ho sentito parlare, ve la dico questa è un outing, già ho sentito parlare Stefano di queste tematiche di etica e quindi mi piaceva molto insomma stimolarti su questo aspetto, etica e intelligenza artificiale. Quella dell'etica è un tema molto scivoloso e lascio lo scivolone a Fabio Ciraci che è nel panel successivo, ma un punto lo voglio sollevare, dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di etica perché l'etica è di per sé un tema scivoloso, perché non è un tema universale, oggi è etico in diverse parti del mondo che le ragazze abbandonino le scuole a 12 anni, quindi è chiaro che se facciamo il training di un'intelligenza artificiale da quelle parti sarà costruita per pensare questo, per questo abbiamo bisogno di riferimenti diversi, abbiamo bisogno di riferimenti globali, abbiamo bisogno di qualcosa che ragioni in ottica di sistema e l'unica cosa perfettibile che abbiamo è in questo momento lo schema, il riferimento della sostenibilità, per questo con la fondazione ci piace più di parlare di sostenibilità digitale che non di etica delle tecnologie, perché? Perché l'etica delle tecnologie è una sorta di falso ideologico, l'etica delle tecnologie non esiste, è l'etica delle persone applicata alle tecnologie e questo Fabio ce lo racconterà bene, ma seppur abbiamo la necessità di costruire un modello di sistema, la sostenibilità è un modello di sistema, perché? Perché con il motto, e con questo chiudo, il motto di Agenda 2030, il payoff di Agenda 2030, no one left behind, non è un motto buonista, non è che non dobbiamo lasciare solo nessuno perché siamo buoni e dobbiamo portarci tutti dietro, ma perché se noi lasciamo indietro qualcuno sbilancia il sistema e quindi succede che il sistema si squilibra e porta indietro anche quelli che stavano avanti, quindi o andiamo avanti tutti insieme con un modello condiviso oppure cadiamo tutti e questo è il bello di Agenda 2030, mette al posto dell'etica una questione pratica, concreta, tecnica, la modalità di approccio al problema di sistema, sistemica. Grazie, grazie Stefano. Passiamo ad Andrea invece che ci porta un po' una prospettiva legata all'industria, quindi legata proprio all'utilizzo, abbiamo parlato di use case, di uso pratico dell'intelligenza artificiale, quindi come avete declinato voi all'interno di uso l'intelligenza artificiale all'interno dei vostri prodotti, come pensate di portare attraverso l'intelligenza artificiale dei servizi a chi utilizza i vostri prodotti? Buonasera, sì, credo che per noi è stata sicuramente un'opportunità, quindi nell'ambito dell'opportunità, tempo fa assieme all'Università di Karlsruhe, uso un'azienda tedesca con sede a Stoccarba, quindi è partito un progetto con dei investimenti comuni proprio in ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno della nostra soluzione di service management, quindi via via sono stati introdotti diversi moduli e quindi oggi i nostri clienti hanno l'opportunità di fruire di questa nuova tecnologia, di questo nuovo approccio all'interno della nostra suite. È chiaro che in termini, visto che i temi sono i rischi, non solo le opportunità, queste sono nell'ambito di un artificial intelligence, tra virgolette, addomesticata, cioè utilizzata all'interno di un'azienda che vuole industrializzare un pacchetto software e via discorrendo. Quando si parla di intelligenza artificiale generativa andiamo verso l'infinito ed oltre, insomma si parla di altro. Ed è chiaro che in quest'ambito io posso portare un'esperienza abbastanza simpatica, la dico anche per... in cui mi è stato raccontato che una persona che sta parlando di un dirigente di alto livello riceve dal suo amministratore delegato un'email, lui non ha tempo quindi risponde usando il chat CPT di turno e quindi a questo punto pensava di essersi accavata così e puntualmente l'amministratore delegato dopo lo chiama e dice guarda già la mia email era stata generata dal chat CPT e via discorrendo. Quindi queste sono delle distorsioni dell'utilizzo che portano avanti dei problemi di fatto che sono stati fortemente mi sembra anche centrati nello speech precedente. Nel talk precedente si è parlato proprio della natura del dato, della certificazione del dato e via discorrendo. È chiaro che all'interno dell'intelligenza artificiale generativa è fondamentale, tutto sta lì sulla velocità del dato e sulla qualità del dato. Che altro dire? In termini prospettive è chiaro che tutte le aziende stanno facendo fortissimi investimenti e tutti vedono delle grandi prospettive, vedremo dove ci porteranno queste prospettive. Il richiamo a diversi settori con fantastiche previsioni sono scritte in tutti i siti possibili e immaginabili. Alcuni però ricordano come è andata a finire in notizia 2001 con Hall che si è impossessato e quindi bisogna come sempre Hall è dietro l'angolo e quindi le prospettive possono alle volte, come è stato detto nel talk precedente, essere sopraffatte dai rischi. Grazie Andrea. Poi sul tema della governance, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale ci torniamo. Non so se è ancora collegato da Nicolai, non lo vedo più sullo schermo. Quindi magari c'è. Perfetto. Allora vado, ritorno appunto sul lato accademico. Sempre rimanendo sul filone delle opportunità che ci dà l'intelligenza artificiale. Quindi state ragionando all'interno della vostra università, come dicevo appunto De Nicolai è il professore di Innovation Management di Paria, sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale nella didattica e su anche un tema di competenze eventualmente da sviluppare. Quindi da questo punto di vista se ci può dare un po' un punto della situazione. Ci proviamo. Grazie. Innanzitutto lasciatemi dire che mi spiace non essere lì fisicamente. Vi saluto tutti perché insomma è in presenza sempre più divertente. Va bene, intelligenza artificiale, la bene, tecnologia, ma in presenza sempre più divertente. Mi è stato impossibile, quindi scusatemi. Sì, ovviamente è un tema caldo, l'ha detto che mi preceduto, un po' in tutti i settori, l'education, la formazione non fa eccezione, però permettetemi di distinguere la questione su due diverse dimensioni. La prima è che ovviamente sentiamo il dovere di formare i giovani su queste tematiche. Quindi c'è un primo tema di come formare e ci stiamo investendo molto, anche un corso di laurea intero e così via, giovani pronti per queste sfide. E da questo punto di vista scartando le competenze strettamente tecniche, tecnologiche per chi sviluppa l'intelligenza artificiale, che è un argomento quasi mainstream e rischia di essere quasi noioso. Lasciatemi dire due parole su invece il ragionamento è un po' più fine a mio avviso su come sviluppare competenze per chi non è uno sviluppatore di intelligenza artificiale, non ha ruoli strettamente tecnologici, ma fa lavori che dovranno utilizzare l'intelligenza artificiale. Perché so che dico qualcosa di banale, ma sono sempre di più, saranno sempre di più, però è interessante non sviluppare soltanto competenze di chi lavora nell'intelligenza artificiale, ma aggiustare il resto delle competenze, degli skill per chi dovrà lavorare insieme all'intelligenza artificiale, grazie all'intelligenza artificiale, un manager di marketing, qualcuno del controllo di gestione e così via. Da questo punto di vista sono diverse le competenze su cui lavorare, ci sono alcune che sono skills e competenze di sesso stretto e altre chiamiamole meta skills, meta competenze. Fra gli skills principali ovviamente c'è tutto il tema dei dati, della data quality, data engineering, data analysis, il tema dell'e-training che sono molto importanti, però anche per chi non è direttamente coinvolto in un'attività tecnica tecnologica di AI, anche se ci lavori tangenzialmente, avere un po' di nozione di base su ciò che riguarda il mondo dei dati è vitale per scogliere al pieno queste possibilità. Se ne parla tanto il tema del saper scrivere bene un prompt, che ci siano gente che per lavoro fa soltanto quello, non lo so, su questo vorrei discutere un po' di più, però è indubbio che imparare a scrivere un buon prompt, saperci si relazionale o arrivare anche fino a qualche competenza a base di low code, perché ovviamente ci apre ad un mondo dove possiamo diventare tutti sviluppatori informatici o quantomeno tutti possiamo utilizzare in un modo molto più user friendly competenze tecnologiche prima un po' bloccate. C'è un tema di KPI, perché queste cose vanno misurate, un importante manager diceva una volta quello che non puoi misurare non esiste, mi sembra un po' esagerato, forse un po' forte, ma la sostanza c'è, quindi ci sono dei KPI diversi, bisogna saper misurare in un modo diverso, però chi lavora da questo punto di vista deve anche saper avere degli indicatori di controllo mirati rispetto a questo tipo di mondo. E poi non vorrei dimenticare la sostenibilità digitale, perché la sostenibilità digitale è una competenza in senso stretto del termine che diventa sempre più importante quando si parla di intelligenza artificiale, non giungo altro altrimenti poi Stefano Epifani mi sgrida perché lo sa dire meglio di me o magari lo sviluppo meglio dopo. Poi a fianco ci sono le meta skills, cioè quelle che sono skills per utilizzare meglio le abilità in senso stretto, quindi tutto ciò che ci abilita a fare meglio le cose e quindi per esempio il problem solving è un qualcosa che serve per tantissimi in tantissimi ambiti, ma stiamo vedendo che quando si parla di problem solving legato all'attività, legato a intelligenza artificiale assume dei connotati tutti particolari, magari la prossima volta ne parliamo, questo è un fenomeno interessante che abbiamo, e quindi c'è una sorta di AI specific problem solving, questo è un tema gustoso da approfondire. C'è il tema dell'apprendimento continuo che si lega anche a sviluppare competenze sui meccanismi di apprendimento, cose magari nel mondo della psicologia o addirittura delle neuroscienze che però diventano fondamentali quando si parla di intelligenza artificiale perché capire i meccanismi che guidano l'apprendimento umano di una macchina ti aiuta a utilizzarle meglio e a cogliere il massimo. Per non dimenticare il tema della cultura digitale a 360 gradi dove per esempio troppe volte ci dimentica che il digitale è diverso dall'IT, il digitale è creare delle black box che ti permettono in modo modulare, riprogrammabile di utilizzare cose senza dover fare degli investimenti, se devo fare un sistema di pagamento per il mio nuovo e-commerce mi prendo Stripe, mi prendo Paypal, non devo costruire qualcosa di custom, è un discorso più sofisticato rispetto alla mera modularità ma è un mondo digitale e non va confuso dal mondo dell'IT, ci sono delle differenze non soltanto teoriche e non soltanto da prof. Infine lasciatemi dire, qui chiudo, che però questa è una sfida che dobbiamo cogliere anche noi, nel senso che va bene provare a insegnarlo ai nostri studenti in aula, va bene cercare di capire come possiamo dare un buon servizio da questo punto di vista, ma perché non applicare l'intelligenza artificiale a noi stessi, al mondo dell'education? Il mondo dell'education lo potete secondo me considerare tra quelli meno innovativi, tra quelli che hanno innovato meno di tutti, lo dico con serenità perché poi quando vai a vedere l'innovazione tecnologica nella formazione poi sorridi perché l'innovazione vera a mio avviso è altra roba e i casi di vera innovazione in ambito didattico sono rari e beh allora per esempio un progetto che stiamo sviluppando noi abilitato dall'intelligenza artificiale è quello di provare a superare quello che è forse il più grande scoglio e la più grande utopia della formazione e da sempre, ossia tutti i modelli formativi salvo piccoli accorgimenti tendono a essere standardizzati, se hai in classe 20 persone fai lo stesso programma formativo per tutti i 20, non va bene, sono 20 persone con diverse storie, diverse esigenze, diversi obiettivi formativi, diversi background e tanto più oggi, io non invidio gli docenti di digital marketing per esempio perché se tu fai un corso di digital marketing con dei ragazzi di 22 anni mediamente ne hai un 20% che ne sanno più di te o quantomeno sono veramente sul pezzo e a fianco hanno della gente che non ne hanno mai sentito parlare e partono veramente da zero e quindi il sogno di noi formatori è riuscire a arrivare a un mondo dove tu puoi, se hai, noi abbiamo 27 mila studenti all'università di studi di Pavia, il sogno è fare 27 mila programmi formativi diversi perché ognuno ha la sua storia come dicevo prima, con l'intelligenza artificiale non dico che è facile ma ci si può ragionare no? Perché l'intelligenza artificiale può pian pianino da come uno studente interagisce, da come risponde alle domande, da come fa domande da come si comporta, dove studia, quanto studia, può aiutare a personalizzare suggerendo dei blocchi dei moduli, si può rendere tutto più granulare, possiamo entrare più nel dettaglio ma mi piace sognare che con l'intelligenza artificiale possiamo arrivare alla cosiddetta precision education e forse è la prima volta nella storia dove abbiamo una tecnologia che ci permette di sognare di farcela, poi se ce la faremo un altro discorso però ci stiamo provando. Molto interessante, grazie, grazie molte per questo spaccato che riguarda appunto la formazione. Io passerei a questo punto a Nicola Mangia che ci porta un po' la vision di una grande azienda, un grande sistema integrato di XC che lavora moltissimo tra l'altro anche nell'ambito della pubblica amministrazione, Nicola è responsabile di tutta la parte che segue il public sector, quindi hai un osservatorio privilegiato sia sulla parte di pubblica amministrazione centrale che locale, quindi da questo punto di vista cosa state facendo anche con degli esempi pratici, use case che state già applicando, intelligenza artificiale dove la state inserendo, in quale pubblica amministrazione anche per capire un po' le opportunità che danno e da un punto di vista organizzativo come vi state eventualmente strutturando per poter reggere a questa sfida. Grazie Massimo, buonasera a tutti, è un piacere essere qua sia come rappresentante dell'azienda ma anche come persona, mi è piaciuto l'intervento del prof, non avevo dubbi, dove ci incida essere e continuare a essere i sognatori, non date retta a Stefano e Fifani che ci vuole smontare l'intelligenza artificiale, è una realtà che sicuramente possiamo e dobbiamo assecondare, perché personale? Beh perché io che sono orato in scienza di informazione feci la tesi di laurea in intelligenza artificiale nei modelli neuronali applicati al riconoscimento vocale eravamo dei ragazzini che si cimentavano, erano i primi anni che si affacciavano questi modelli neurorali e ne rimanemmo affascinati perché vedevamo con grande fatica all'epoca per far diciamo elaborare tantissime informazioni, ci si impiegava tante ore, si vedeva come la macchina man mano nell'apprendimento che provavamo a fare riconosceva i vari fonemi e quindi ci accorgevamo come questa cosa seppur in una maniera limitata poteva essere veramente un sogno che man mano si poteva avverare, oggi verosimilmente comincia ad essere una realtà, noi DICCI è una società multinazionale come ha detto Massimo Fedeli, siamo presenti in Italia ormai da tantissimi anni, a trent'anni e curiamo la pubblica amministrazione, i grandi sistemi, bene cito qualcuno, il sistema informativo della scuola, molti di voi hanno avuto a che fare con i servizi che noi negli anni abbiamo messo a disposizione delle famiglie, le iscrizioni in line per esempio, frutto di un grande lavoro che avviene all'interno di quel sistema informativo e negli ultimi anni abbiamo provato ad accompagnare le amministrazioni per esempio nell'ambito della sanità dove, e cito un caso in cui abbiamo cominciato a prima sperimentare sempre di più attuare i modelli di intelligenza artificiale, è il caso per esempio della regione Campania nella sanità. Noi insieme alla regione abbiamo attuato un modello di sanità digitale dove vedeva la centralità del cittadino, parlo di cittadino prima di paziente e durante il periodo di Covid quelli che erano i primi algoritmi di intelligenza artificiale hanno portato ai risultati importanti. Ve ne cito uno perché semmai qualcuno di voi si ricorderà anche l'episodio. All'epoca noi quello che abbiamo costruito per regione Campania è stata una grande banca dati che poteva raccogliere tutte le informazioni, eravamo in piena emergenza Covid. Vi ricordate che c'era l'app Immuni che era pochissimo utilizzata e noi provammo a cominciare a raccordare delle informazioni sul territorio e portava alla declinazione di quelli che erano i focolai. Lì dentro noi cominciamo ad attuare i primi algoritmi di intelligenza artificiale nel cercare di capire quali potevano essere i focolai nel territorio. Mi ricordo un caso di una divergenza tra il Presidente De Luca e il Presidente del Consiglio, allora era Conte, perché dai sistemi che noi avevamo definito sostanzialmente era venuto fuori che in un'area circoscritta della Vellinese secondo noi c'era un focolaio attivo in maniera importante, mentre il Presidente Conte dai dati che invece aveva a livello nazionale questa cosa non era così emersa. Il Presidente De Luca decide comunque di chiudere tutta quell'area, dopo qualche giorno si scoprì che quello era un focolaio molto importante perché c'era stata una festa, un matrimonio se non erro, assolutamente nascosto che aveva contaminato circa 5 o 6 paesi limitropi nell'aria con una diffusione del contagio molto importante. Cito questo caso reale come l'intelligenza artificiale guidata in un percorso di questo tipo sicuramente porta risultati significativi. Aggiungo la e-generativa è un passo in più, è un passo in più che ha vari risvolti. Noi a livello internazionale sono anni che sperimentiamo chat GPT e la e-generativa per esempio nell'ambito, noi essendo un'azienda da software, nell'ambito della generazione del software, i risultati che si stanno ottenendo sono risultati decisamente importanti in cui sempre di più dall'essere partiti di utilizzare l'intelligenza artificiale nel misurare la qualità del software, quindi tutto quello che poi porta i servizi che voi all'interno delle app per esempio utilizzate quotidianamente, si è fatto un passaggio in più e in questo momento si sta generando ovviamente attraverso modalità sperimentali un percorso di questo tipo. Nell'ambito del settore pubblico tutto questo che cosa può portare? Beh di applicazioni noi ne stiamo sperimentando un po'. Sicuramente la pubblica amministrazione si presta molto alla generazione, voi sapete la pubblica amministrazione per definizioni è un'organizzazione fondata molto su processi già determinati, su norme e quant'altro. L'intelligenza artificiale ancora una volta quella generativa può supportare in un discorso che aiuti la pubblica amministrazione a generare, a migliorare i processi, quindi riuscire a standardizzarli e a semplificarli e questo è un progetto che noi stiamo portando avanti e in particolare può aiutare a generare quelle che sono delle documentazioni idonee alla norma, ve ne cito una, le sentenze per esempio nell'ambito della giustizia. Le sentenze oggi nell'ambito della giustizia possono assolutamente essere assecondate attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale e di AI generativa e tornando sul mondo della sanità la diagnostica, a oggi la diagnostica può essere accompagnata da algoritmi di questo tipo. Però qual è l'elemento a mio avviso rilevante? Sicuramente ho sentito tutti gli interventi precedenti, la centralità del dato è fondamentale. Prima di parlare di informazione bisogna parlare di dati e nei dati sicuramente in un argomento come quello della qualità non bisogna perdere di vista l'integrazione fra questi. Si devono assolutamente assecondare, indirizzare i dati più idoni all'interno di una macchina che da sola non funzionerebbe mai. Il secondo punto sicuramente è l'applicazione, i modelli che vengono portati dentro all'interno di questa macchina. Ma vado a chiudere un elemento a mio avviso ineludibile sicuramente è la centralità della persona. Questi modelli non sostituiranno mai le persone, non ci sostituiranno, ci accompagneranno? Ci accompagnano, ci continueranno ad accompagnare. Spetta a noi assolutamente non perdere di vista questo indirizzo e ancora una volta richiamo il precedente intervento e anche un altro argomento che in precedenza Stefano Epifani ci aveva tracciato. La consapevolezza a mio avviso da parte nostra diventa un elemento molto importante, quindi ancora una volta sono strumenti che non possono essere lasciati ma devono essere da noi guidati nell'accezione ovviamente più efficace dell'intervento. Grazie Nicola, mi fa piacere anche questa centralità della persona, poi magari ci torniamo più avanti, chiederò poi una chiusura a Stefano su questo tema ma anche a De Nicolai collegato da remoto. L'altro giorno era un convegno, si parlava di intelligenza artificiale e c'è stata a un certo punto una discussione perché c'era un illustre rappresentante del mondo della sanità che ha fatto un'affermazione del tipo la medicina fino a ieri era un'arte che per me quando si parla di arte è un qualcosa di creativo che applicato nella medicina mi mette paura, adesso invece con l'intelligenza artificiale è diventata una scienza, proprio perché utilizzando la diagnostica, utilizzando tutto un incrocio di dati e lì è uscito fuori anche il discorso, sì ma se c'è un medico che alla fine ci mette un occhio a quello che ci ha detto l'intelligenza artificiale forse è meglio, quindi la centralità della persona non ce la dobbiamo mai dimenticare. Passando all'ultimo intervento Brandolini che riguarda la parte dell'industria, la parte della consulenza, la parte del mercato che poi ci aiuta moltissimo nell'ambito della pubblica amministrazione, compresa l'Istituto Nazionale di Statistica, volevo chiedere a te con il vostro punto di vista, tu hai una visibilità sul lato telco, perché comunque FastWeb è una grande organizzazione che ha anche una disponibilità di dati che potrebbe essere utilizzato, allora dal vostro punto di vista quali sono un po' gli sviluppi che vedete, quindi le opportunità e quindi come vi state anche organizzando internamente da questo punto di vista? Allora, intanto con le AI generativa parliamo di una discontinuità importante che si introduce, sicuramente un qualcosa che è qua per restare. Noi in azienda abbiamo adottato e applichiamo l'intelligenza artificiale da diversi anni in maniera strutturata, però chiaramente la AI generativa abilita una quantità di casi d'uso che prima non erano possibili, quindi sicuramente si apre un ventaglio di opportunità che prima non c'era e una varietà di casi d'uso che andranno a modificare direi in maniera rilevante le nostre vite, diciamo sia come vita privata che come vita lavorativa, la nostra esperienza di clienti cambiano anche le prospettive degli investitori perché si apre un campo, una disciplina totalmente nuova. Io credo che le opportunità si svilupperanno su più dimensioni, ne cito alcune, credo che la AI generativa apre una quantità di opportunità sul campo dell'esperienza cliente che viene modificata in maniera sostanziale. Molti di noi se non tutti ad esempio hanno avuto a che fare con i bot, tanti di noi hanno interagito col bot del proprio operatore di telecomunicazioni o del proprio provider di energia. È un'esperienza che tante volte risulta non priva di frizioni perché intanto il bot che lavora su una tecnica che è quella della natural language processing deve riconoscere il nostro intento e spesso questa fase è abbastanza critica, non è semplice far riconoscere il nostro intento al bot. Con la AI generativa cambia totalmente l'approccio, l'esperienza diventa molto più conversazionale tant'è che si parla di continuum uomo macchina, quindi diventa quasi impercettibile il fatto che dall'altra parte c'è comunque una macchina che sta rispondendo alle nostre richieste. Questo è un cambiamento importante, un'opportunità importante, un campo importante che verrà impattato dall'AI generativa. Io aggiungerei anche la produzione di contenuti di qualsiasi tipo, nel nostro caso si può parlare di comunicazioni che vengono inviate ai clienti che possono essere sempre più personalizzate e contestualizzate, ma mi spingo oltre, ora su questo c'è un dibattito chiaramente molto ampio che riguarda proprio le attività e i lavori intellettuali, però con la AI generativa si può fare molta produzione di contenuti, quindi contenuti artistici ma anche contenuti tecnici. Oggi è già possibile ad esempio utilizzare l'AI generativa per fare progettazione tecnica. Esiste il principale produttore di software CAD nel mondo, offre la possibilità di sviluppare progetti con l'AI generativa a partire dagli obiettivi del progettista, tenendo in considerazione i vincoli, tenendo in considerazione il regolamento, le normative, tenendo in considerazione aspetti di efficienza energetica, quindi sulla produzione di contenuti veramente l'AI generativa sarà un game changer. Aggiungerei in ultimo la produttività, qua porto un esempio che riguarda la mia attività, io mi occupo di ingegneria del software e quindi di sviluppo di codice, già oggi è possibile attraverso l'AI generativa sviluppare il codice, cioè l'AI generativa sviluppa il codice e il programmatore interagisce con l'AI generativa in linguaggio naturale. L'AI generativa sviluppa il codice software in tutta la sua struttura e produce anche tutti quelli che sono gli automatismi per testare il software. Quindi come dicevo prima, le opportunità che si aprono sono veramente tante, e queste sono le tre che vedo principali, ma direi che ce ne saranno veramente tante. E questo è l'aspetto, io credo che differenzia di molto l'AI generativa, che non è, se ne parla molto in questo periodo, è evidente, però è qua per restare, nel senso che ha una caratteristica particolare, che è la capacità di tradurre l'aspetto tecnologico in casi d'uso. L'AI generativa permette di fare questo, quindi è molto semplice immaginarsi tantissimi ambiti di applicazione e tantissimi casi d'uso. Grazie anche per questo punto di vista. Io a questo punto dagli interventi mi è sorto un dubbio e quindi aiutatemi voi, i due Stefani, quindi Stefano Epifani che è qui vicino a me e Stefano De Nicolai di dare moto, quindi abbiamo nove minuti, dividetevi equamente questi nove minuti, a me è sorto un dubbio, ma siamo noi che dobbiamo assecondare l'intelligenza artificiale o è l'intelligenza artificiale che deve assecondare noi? Aiutateci a rispondere a questa cosa, perché poi non si capisce bene, chi è che governa questa cosa, siamo noi che governiamo o è lei che ci governa? Io dubbi non ne ho, nel senso che in questa, come disse Alberto Sordi, Maccherone, tu mi hai sfirato e io me ti magno, quando Nicola, che ovviamente, come dire, questo tema lo conosce bene, dice Stefano non smontare l'intelligenza artificiale a secondala, non intende dire che è lei che deve guidare, intende dire che in questo momento il rischio è che si sviluppi un processo di demonizzazione dell'intelligenza artificiale sulla base del quale si rischi di averne paura e avere paura di qualcosa è il modo migliore di subirne gli impatti negativi. Noi dobbiamo accogliere l'intelligenza artificiale e comprendere come sfruttarla positivamente perché sia lei ad assecondare noi, ma per farlo dobbiamo conoscerla, per farlo dobbiamo usarla, per farlo dobbiamo comprendere le specificità e dobbiamo orientarla. Io parto da un assunto, cercare di limitare l'intelligenza artificiale, che non può fermare come dicono il vento con le mani, è un'intelligenza artificiale più di molte altre tecnologie disruptive che abbiamo visto, tecnologie esponenziali che abbiamo visto, è una slavina. Noi abbiamo due opportunità se ci troviamo di fronte a una slavina, tirare su un muro e ovviamente la slavina abbatterà quel muro e andrà dove dice lei, oppure con lo stesso materiale di costruzione costruire delle paratie che cercano di orientarla piano piano per orientarla dove fa comodo a noi. Dal nostro punto di vista di fondazione questa è la sfida che abbiamo con la sostenibilità digitale, cioè identifichiamo dei parametri, dei criteri, delle modalità, delle cose da chiedere ai fornitori e delle cose da pretendere dai fornitori, delle cose che quando siamo sviluppatori dobbiamo tenere in considerazione e delle cose che dobbiamo cercare di evitare. Facendo così noi costruiremo l'intelligenza artificiale che sia in grado di lavorare in maniera sinergica, complementare rispetto alle persone, perché l'unico rischio che non dobbiamo correre è spaventarci dell'intelligenza artificiale e cercare di fermarla, perché è il modo migliore per non coglierne le opportunità ma patirne tutti i problemi, perché se oggi io spesso sento dire ma l'intelligenza artificiale crea o distrugge posti di lavoro? È una domanda malposta, perché è certo che le tecnologie creino posti di lavoro, il problema è che non li creano dove li distruggono, quindi dobbiamo scegliere se essere nel contesto socio-economico e culturale dove si svilupperà un lavoro che sia coerente con i nuovi strumenti o pensare di poter continuare a lavorare con la zappa in un mondo in cui c'è il trattore. Grazie Stefano, sei stato perfetto. Passare subito la palla all'altro Stefano che ci segue da remoto. Il vostro punto di vista, anche un po', anche il tuo punto di vista da questo punto sulla governance di questa slavina che sta avvenendo giù. Ma sì, rispondo dopo Stefano, non è banale perché io e lui ci conosciamo bene, siamo allineati, ne parliamo molto spesso e io sposo in pieno tutto quanto dice Epifani. Quindi per raggiungere un qualcosa provo a cercare di stressare ulteriormente il concetto già lui espresso con la seguente metafora e il seguente esempio concreto. Siamo noi che dobbiamo adattarci all'intelligenza artificiale, l'intelligenza che ci deve adattare lei, è una slavina che ci viene contro. Tutti, 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 tutti cadiamo troppo spesso nella sindrome scapoli a contromuliati. A noi piace, all'uomo, alla donna, alla razza umana, noi adoriamo creare le sfide. Milan contro Inter, Juve contro Toro, partito A contro partito B, appassionati della lasagna contro appassionati del risotto. Ci piace creare le fazioni. Roner contro barbecue. L'uomo contro la macchina, l'uomo contro la macchina. Dobbiamo noi guidare la macchina o la macchina deve guidare noi come ci difendiamo dalla slavina. Non funziona così. Ad Harvard Medical School hanno fatto un test molto interessante. Hanno messo i loro migliori anatomopatologi contro, metaforicamente parlando, un sistema di AI, non diciamo la marca, non diciamo il modello per non fare pubblicità. E hanno detto, vediamo chi fa le diagnosi di breast cancer, di tumore al seno, migliori. E cosa è successo? Che gli anatomopatologi di Harvard hanno raggiunto una percentuale di diagnosi perfette da ogni punto di vista pari al 96%. Il sistema di intelligenza artificiale si è fermato al 92.5% e quindi contro il top di Harvard ha perso. E allora ecco che i due partiti partono. Ah, vedi che l'uomo è ancora meglio, è l'uomo che devi guidare, perché è l'uomo che ha sopravvento, è l'uomo che deve avere la governance. Lo hai visto, te lo dicono anche i dati. E poi arrivano invece i fan del partito di intelligenza artificiale che dice, sì, bravo, aspetta un attimo, lascialo allenare ancora un pochettino, ne riparliamo fra due o tre anni e poi vediamo chi ottiene le percentuali migliori. Tutti e due sbagliano. Tutti e due sbagliano. E infatti ha sempre questo test di Harvard Medical School, poi hanno preso i giovani anatomopatologi, quelli che stavano studiando ad Harvard Medical School, gli hanno fatto fare sei mesi di addestramento con il sistema di intelligenza artificiale lo stesso, gli hanno dato gli stessi identici referti senza cambiare una virgola, gli hanno detto va bene, ora dateci la vostra diagnosi utilizzando il sistema di intelligenza artificiale. Utilizzando il sistema di intelligenza artificiale. Risultato 99.3% di accuratezza. I giovani battono addirittura i loro professori. Lo avete già detto in tutte le salse, i due mondi devono essere sinergici, bisogna parlare di intelligenza aumentata, ma è anche un click mentale che dobbiamo fare. Non dobbiamo smettere a parlare di robot, di macchina, parliamo di metafore come Iron Man, perché l'intelligenza artificiale ci regala la possibilità di rendere Marvel la verità. Ci può dare i superpoteri, possiamo avere Iron Man, possiamo avere un uomo che ha i superpoteri. E allora non è uno che influenza l'altro, è un mondo sinergico, e è lì che si vince. Tant'è che, e qui chiudo, che se qualcuno di voi presenti in sala ha paura che la macchina, che l'intelligenza artificiale gli porterà via al lavoro, è sulla strada sbagliata, perché al lavoro glielo porterà via la persona che sa utilizzare l'intelligenza artificiale, non l'intelligenza artificiale. Grazie Stefano, devo dire che è stato un intervento, ovviamente dopo Stefano Epifani, che sta qui da me, è complicato, però insomma ci hai dato un punto di vista che ha aggiunto sicuramente degli elementi di sostegno. A questo punto un'ultima battuta di voi, quindi Andrea, Nicola e Paolo. Dal vostro punto di vista, un'opportunità o un problema? Una battuta velocissima? Velocissima? Io rimango vecchio stile, nel senso che nel talk precedente ho visto la presentazione di Istatdati, o Istatdata. Istatdata. Insomma, quello è un dato vero, certificato, eccetera, eccetera. e quindi ritorniamo al tema del talk precedente, quindi non voglio ripetermi rispetto a quello che ha detto Nicola, ma tutto sta lì. Quindi dato, certificato e di qualità, perché altrimenti l'intelligenza artificiale non ci facciamo nulla. Jarvis sbaglia, cattivi consigliari, Roma e poi. Grazie. Non se ne può fare a meno. Sono d'accordo con quello che diceva prima Stefano, è un elemento di sinergia, una grandissima opportunità, dove, come vi dicevo precedentemente, la centralità non va mai persa di vista e sicuramente sta cambiando il nostro modo di interagire assolutamente. Grazie Nicola. Grande opportunità, sicuramente. Io anche sottoscrivo le parole del professore e in particolar modo l'aspetto delle competenze, duplice aspetto. Le competenze devono essere adeguate per fare in modo di sfruttare l'intelligenza artificiale. In secondo, si devono sviluppare nuove competenze. Tante volte arrivano prima le innovazioni tecnologiche e dopo fatichiamo a sfruttarle perché ci mancano le competenze. Da questo punto di vista bisogna accelerare sicuramente. Alla fine del giro ritorniamo sempre alle persone. Quindi a questo punto volevo ringraziare i nostri relatori, quindi Paolo Brandolini, Nicola Mangia, Andrea Cortelli, Stefano Epifani e Stefano De Nicolai. Li ringrazio moltissimo. Ovviamente non abbiamo parlato qui in questo talk di quello che sta facendo Istat, ma ne stiamo facendo anche noi di grandi cose sull'intelligenza artificiale, quindi arriveremo con delle news nei prossimi mesi. Grazie a tutti. Grazie Massimo. Grazie. Grazie a tutti.